Grazie a tutti. In primo piano in questo momento lo sport, in particolare il calcio con una bella vittoria del Rimini rimonta in casa sul Ponte d'Era per 3 a 1 ma ne parleremo così come parleremo anche di basket invece di una sconfitta della RBR in quel di Rieti ma partiamo con le altre notizie. In particolare c'è questa notizia in primo piano che riguarda la nebbia e lo smog con l'alta pressione che continua ad insistere sul nostro territorio anche se in settimana sono previsti degli importanti cambiamenti con l'arrivo di una perturbazione di grosse entità. Sa di fatto che fino a questo momento l'alta pressione, la nebbia e l'assenza di ventilazione fa salire tantissimo il concentrato di micropolveri che tornano sopra i limiti. A Rimini nelle giornate scorse il PM10 è tornato di nuovo sopra la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo e in Emilia però la situazione va decisamente peggio. Modene al quinto sforamento consecutivo, ad esempio aveva 107 nella giornata di sabato quindi restano in vigore fino a oggi a Rimini e Riccione per quello che riguarda la nostra provincia le misure emergenziali previste dall'accordo regionale per la qualità dell'aria. Oggi ci sarà il nuovo bollettino di Arpae che stabilirà l'interruzione e il proseguimento delle misure. Ieri mattina ad esempio la visibilità ridotta a meno di 20 metri sull'autobrennero ha spinto società autostrade di concerto con la polizia stradale a chiudere cautelativamente la circolazione tra Verona e Modena. Diciamo effettivamente che sono situazioni quanto mai importanti e anche pericolose o rischiosi in questo particolare frangente. Ma adesso parliamo anche di fabbisogni occupazionali perché nei giorni scorsi la Camera di Commercio della Romagna ha presentato i dati relativi proprio alle ultime necessità. Diciamo che la situazione più complicata riguarda gli addetti alla ristorazione che sono difficilissimi da trovare. Ma sentiamo il servizio. Nel corso del 2023 il 72% delle imprese riminesi ha effettuato assunzioni con 53.730 entrate previste. Si tratta di un numero in crescita sia rispetto al 2022 che rispetto al 2019 pre-pandemia. E quanto emerge nel consuntivo sui fabbisogni occupazionali è reso noto dalla Camera di Commercio della Romagna. In tre casi su dieci i datori di lavoro cercano giovani under 30. Oltre il 91% dei contratti proposti sono da dipendenti ma solo l'11% è a tempo indeterminato. Le forme flessibili invece rappresentano appena l'8,7% del totale. Ma perché si cerca forza lavoro? Prevalentemente in sostituzione di personale in uscita oppure per coprire nuove figure non presenti in azienda. Come è logico aspettarsi in una realtà come quella riminese, il settore più attivo nelle assunzioni è quello dei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici, con 25.450 entrate previste lo scorso anno. A distanza siderale ci sono commercio e riparazioni e poi altri servizi. La professione più richiesta, ma a detta delle imprese anche più difficile da trovare, è quella degli addetti nelle attività di ristorazione. Complicata anche la ricerca del personale non qualificato nei servizi di pulizia e degli addetti alle vendite. Venendo ai titoli di studio, la più richiesta è l'istruzione secondaria che precede nettamente la scuola dell'obbligo. In coda, l'istruzione terziaria. L'esperienza è richiesta nell'83% dei casi proprio ai titoli più elevati, per scendere al 66% negli intermedi e al 51% per la scuola dell'obbligo. Ma a chi si rivolgono le imprese per trovare il personale? Nel 45% dei casi il reperimento avviene tramite conoscenze dirette e a seguire tramite conoscenti, amici o parenti. Al terzo posto ci sono i curriculum. Infine, le prime tre competenze più richieste ai neoassunti sono la flessibilità e l'adattamento, nel 94% dei casi, la capacità di lavorare in gruppo, nell'84%, e all'opposto il lavoro in autonomia, in 8 casi su 10. E ora una bella notizia che riguarda i ragazzi di una scuola media di Rimini. Qui si parlava di lavoratori, quindi scendiamo ad età decisamente più basse. La scorsa settimana tutte le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Panzini, siamo quindi a Rimini, hanno partecipato al progetto Una Montagna di Sport, un'iniziativa pensata in collaborazione con il CONI e mirata all'avviamento dei ragazzi agli sport invernali, come hockey, pattinaggio su ghiaccio, trekking e ciaspole. I ragazzi hanno potuto trascorrere tre giorni sull'Appennino nella zona di Fanano, affiancati da tecnici federali specializzati, e sono stati praticamente la totalità degli iscritti. Altra scelta importante, insomma vi vorrei soffermare su questo aspetto condiviso dalla scuola e dai genitori, è stata quella di non far portare con sé i ragazzi i telefoni cellulari, per permettere loro di vivere a pieno l'aspetto socializzante, lontani dalle tentazioni dei social. E cosa ha detto la dirigente scolastica Chiara Giovannini? Gli studenti hanno partecipato a tutte le attività con grande entusiasmo, quindi lo sport e la convivialità, la possibilità di stare insieme, diciamo senza distrazioni. Torniamo sempre sulla prima pagina del nostro sito e andiamo in fiera, perché ieri c'è stato il taglio del nastro per Beer and Food Attraction, che sarà aperta fino a domani nei padiglioni della Fiera di Rimini, la presenza anche importante della ministra alla disabilità Alessandra Locatelli, ma vediamo. È stata Alessandra Locatelli, ministro per la disabilità, la protagonista della giornata inaugurale della sesta edizione di Beer and Food Attraction. La Locatelli, oltre all'inaugurazione ufficiale, è stata ospite del momento dedicato ai ragazzi speciali organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi nell'ambito dei campionati della cucina italiana. Condivisa da chef d'ordinanza, il ministro ha dialogato con gli organizzatori e con i ragazzi, poi ha dato il via al contest. Nella giornata inaugurale anche la premiazione del diciannovesimo premio Birra dell'anno, evento promosso da Union Beer Rai con ben 45 categorie. Il premio principale al birrificio Ritual Lab di Formello in provincia di Roma. Insieme a Beer Attraction, fino a martedì la fiera di Rimini ospita il sesto BB Tech Expo, fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birra e bevande, e il tredicesimo International Oreca Meeting dedicato al pasto fuori casa. I sindacati di categoria CGL e Cisle Will sollecitano il nuovo contratto FederCasa applicato al personale che lavora nelle aziende di gestione delle case popolari. Per domani è prevista una giornata di sciopero nazionale, un presidio sindacale dalle 10 alle 12 per quello che riguarda il nostro territorio davanti alla sede di Acer Rimini in Via Novelli. Il diritto ad una casa pubblica è il più importante per i fragili che fanno parte di una comunità, spiegano i sindacati. La messa in opera di quel diritto, con un'azione quotidiana, appassionata e specializzata, passa per i lavoratori e le lavoratrici della Galassia Acer, personale che segue bandi e graduatorie, che ogni giorno risponde e trova soluzioni ai problemi di chi ha già una casa popolare o di chi è in graduatoria. Sono 30 i dipendenti che a livello provinciale lavorano in Acer. è indispensabile, viene detto dai sindacati, che la loro capacità sia riconosciuta e valorizzata nel rinnovo del contratto nazionale di Federcasa. Ecco perché si è deciso proprio di indire questo sciopero per la giornata del 20 febbraio, in particolare per informare e coinvolgere istituzioni e cittadini e per mettere in chiaro che si chiede alla politica un intervento concreto, strutturale e realmente applicabile per rafforzare il sistema dell'edilizia residenziale pubblica. Questo in un comunicato ai sindacati, per cui c'è questa decisione di sciopero per la giornata di domani. Piano territoriale di aria vasta. Siamo alle battute iniziali per quello che riguarda proprio un confronto che dovrebbe riguardare l'intero territorio, perché la provincia di Rimini ha assunto, con un decreto del Presidente elaborato ai sensi della legge urbanistica, proprio questo obiettivo del piano territoriale di aria vasta. Parte così la fase della formazione del piano, una fase rivolta alla consultazione pubblica, con il più ampio coinvolgimento di istituzioni, parti sociali ed economiche, cittadini per la condivisione e il miglioramento del piano. Dovrebbe essere uno strumento che affronta tremi cruciali, come il cambiamento climatico e l'equità territoriale, indicando una direzione strategica da condividere con tutta la comunità. Quindi è importante anche capire che cosa c'è di così importante da affrontare insieme, tant'è che prossimo lunedì il 26, dalle 16.30 alle 18.30 ci starà un incontro nella Sala Marvelli della provincia, a cui parteciperanno anche il professor Francesco Musco dell'Università UAB di Venezia, coordinatore scientifico del piano e il dirigente della regione Emilia-Romagna Marcello Capucci. Insomma tutti invitati perché stiamo parlando del nostro futuro e del futuro del nostro ambiente. E ora andiamo sulle pagine sportive perché c'è tanto sport di cui occuparci. Partiamo dalle buone notizie, dalla vittoria del Rimini ieri in casa, in rimonta sul Pontedera, con un risultato finale di 3 a 1 e con un Rimini decisamente soddisfatto della propria prestazione. Ma partiamo dalla cronaca della partita. Ritrovati i tre punti a Recanati, il Rimini ospita il Pontedera, che all'andata nel giorno del debutto in panchina di Troise, rifilò un sonoro 4-0 i Biancorossi. In classifica le due squadre sono separate da 7 punti, 39 per i Toscani, 32 per i Romagnoli. In casa Biancorossa senti i Marchesi, Cernigoi, Capanni, Oddi e Gigli. Al settimo, primo corner della partita, è per i Toscani. Angori mette al centro, e specie prolunga di testa e Ganz, da pochi passi, non riesce ad impattare. Tre minuti dopo, Benedetti trova in area Ianesi, che stoppa di petto, salta Meghelaitis e Langella e calcia sotto l'incrocio. Pontedera in vantaggio al decimo. Al ventitresimo, crossa il bacio di Malagrida per il colpo di testa di Garetto, vivoli e costretto agli straordinari. Al trentaduesimo, per retta rincorre un pallone a destra lo Porge Ganz, che calcia dal limite dell'area, alzando la mira. Al trentottesimo, Meghelaitis per Lepri, traversone basso sul quale Nemorra né Lamesta riescono ad arrivare in tempo per la deviazione vincente. Al quarantaduesimo, Meghelaitis per Morra, tocco delizioso per Garetto, che spara addosso a vivoli in uscita. Al quarto della ripresa, la Rimini trova il meritato pareggio. assist di Lamesta per Morra, che controlla di destro e sempre di destro batte vivoli, 1-1 e tredicesimo gol in campionato per il bomber dei Biancorossi. Al nono, Lamesta calcia da fuoriare senza pensarci troppo, vivoli si salva in angolo. Al minuto 14, la cross di Malagrida è intercettato con una mano d'Angori. Il signor Peletti di Crema non ha dubbio e indica il dischetto. Dagli 11 metri, Morra spiazza vivoli, Rimini 2, Ponte d'Era 1. Seconda doppietta dei fili, e quattordicesimo centro per il capo cannoniere delle Rimini. Al trentatresimo, la pressione di Morra costringe Pelie l'errore. Tofanari recupera il pallone e serve in verticale Ramesta, che controlla di destro e di sinistro supera vivoli per il 3-1. Il numero 73 non segnava in campionato dall'8 ottobre. Vince le Rimini, che vendica il capo dell'andata, infila il secondo urra di fila e sale a quota 35 in classifica. Il Ponte d'Era resta a 39. Un Rimini concreto che ha saputo affrontare la sfida con il giusto coraggio. Così, nel dopogara, il mister Emanuele Truise. Sì, concreto, ma anche bello in quella che è stata l'evoluzione della partita perché dal primo minuto i ragazzi l'hanno interpretata nel modo giusto, con il giusto coraggio, sia in una fase che nell'altra, con alla base quello spirito che contraddistingue questa squadra e a cui devo ringraziare stasera in particolar modo perché ancora una volta hanno dimostrato in questo periodo della stagione che ci stanno credendo è il mio compito ancora far credere a loro che possono fare queste prestazioni e possono ottenere questi risultati in un determinato modo come è successo stasera. Perché nonostante quello svantaggio abbiamo avuto la capacità di rimanere in partita senza cambiare nulla e sono stati premiati. Vorrei dedicare questa vittoria alla press qui presente perché dopo il derby c'è stato un confronto dove ci ha permesso di rimanere in equilibrio e quindi grazie alla proprietà. Nella partita di Recanati e quella di stasera abbiamo dato una grande risposta. Poi la vorrei dedicare a un tifoso. Il tifoso in settimana mi ha rincorso e mi ha incoraggiato mi ha incoraggiato dicendomi che comunque erano soddisfatti che comunque apprezzavano quanto di buono stesse facendo la squadra e poi l'ultima dedica la voglio fare ad un bambino che ho incontrato oggi in hotel un profugo ucraino grande tifoso di Delcarro a cui avevo promesso che Delcarro stasera gli avrebbe regalato un gol. Non ho mantenuto la promessa però Delcarro ha salvato un gol incredibile su un'azione che loro potevano rientrare in partita. Belli anche queste parole del mister per le dediche rispetto al match vinto con il Pontedera invece non è stata una buona giornata per il basket perché Riviera Banca Basket Rimini era impegnata sul campo del Real Sebastiani Rieti ai noi c'è stata una terza fase una terza sezione di gioco assolutamente negativa e infatti il Rimini nonostante anche il desiderio alla fine ha portato i ragazzi a cercare di riappropriarsi di questa partita purtroppo non è stato così e il finale è stato di 93 ad 86 per i padroni di casa per cui andiamo a vedere ed ascoltare proprio il servizio sulla partita di ieri Riviera Banca Basket Rimini cade a rieti 93-86 contro la Real Sebastiani dell'ex Jazz Johnson in una partita vissuta sul filo dell'equilibrio nella seconda giornata della fase orologio di serie A2 di pallacanestro protagonista in avvio Raucci per i padroni di casa che con due canestri porta i suoi sul 4-2 poi canestro difficile da sotto di Ouge per il 10-6 RBR accorcia con Justin Johnson che realizza il 10-8 poi altri due punti per Tassinari e Rimini va a meno 1 14-13 l'equilibrio viene confermato anche dalla tripla di Anumba per il 18 pari poi tripla di Masciadri per RBR e 23-20 per gli ospiti ma il primo quarto si chiude 25 pari per il tiro da 3 di Petrovic che pareggia ancora equilibrio nel secondo periodo Ancellotti scarica per Petrovic 29-27 Rieti Rimini sorpassa con la tripla di Grande per il 31-33 tripla anche di Capitana Spanghero per Rieti e 5 punti personali 44-43 il quarto si chiude con Pichin che fa tappin su un tiro da 3 di Italiano per il 50-45 con cui si va a riposo tripla di Tassinari per il 50-48 in avvio di terzo quarto parziale di 8-2 per RBR che ribalta 53-52 con due punti e un libro di Johnson tripla ancora di Jazz Johnson per il 59-55 e poi un'altra tripla di Spanghero porta a 7 i punti di vantaggio di Rieti RBR si rifà sotto con la tripla di Marx 64-58 poi un'altra tripla quella di Petrovic per il più 10 dei padroni di casa altra tripla dell'ex Johnson e 75-61 punteggio con cui si chiude il terzo periodo nell'ultimo quarto RBR cerca di ridurre lo svantaggio tripla di Marx e poi Johnson per Rieti 85-70 i riminesi con i liberi di Marx riescono ad accorciare sull'88-81 a 10 secondi dalla fine 2 su 2 di Johnson dai liberi per Rieti 92-84 che chiude la contesa con l'1 su 2 di Pichin dalla lunetta prima del ferro di Tassinari su cui si infrangono le speranze riminesi prossimo impegno per RBR il 3 marzo in casa di Cantù i nostri giocatori hanno avuto una buona reazione ma gli altri sono stati più bravi così il coach Sandro Dell'Agnello a fine match allora innanzitutto bisogna fare complimenti alla Sebastiani che ha meritato di portare a casa la vittoria è stata più continua di noi nell'arco dei 40 minuti ha fatto una prestazione molto molto solida e quadrata noi siamo un po' mancati secondo la mia opinione nel terzo quarto dove la partita è girata a favore della Sebastiani avevamo deciso di essere molto attenti al loro tiro da tre sapete tutti che è la squadra che tira meglio da tre però abbiamo subito un pochino troppo dentro l'area forse anche per questa scelta la partita è stata molto ruvida nel senso buono del termine e noi specialmente nel terzo quarto lì abbiamo un pochino pagato perché ruolo per ruolo qualche chilo e qualche centimetro rispetto a loro ci manca ci portiamo a casa sicuramente la sconfitta ovviamente però la partita si era messa male e avremmo potuto prendere un'imbarcata mi fa piacere che i nostri giocatori hanno avuto una grande reazione e non dico che l'abbiamo riaperta ma ci siamo andati vicini quindi stiamo venendo da un periodo ottimo oggi un po' meno bene ma il valore dell'avversario era più alto e andiamo anche a vedere sul nostro sito newsrimeni.it che puntata di calcio.basket ci sta preparando Roberto Bonfantini insieme a tutta la squadra della trasmissione Zambelli Pancari Fregnani e Mercuri tra gli ospiti di calcio.basket e come sempre si parte alle 19.35 per trattare di prima seconda e terza categoria poi nella seconda parte dalle 20.35 alle 21.15 i campionati di serie D eccellenza e promozione qui appunto Fregnani e Mercuri tra gli ospiti presenti ma nella terza parte si parlerà della Rimini Calcio anche alla presenza del responsabile della comunicazione della squadra Francesco Pancari poi tutto il gruppo degli opinionisti Donatella Filippi Giorgia Bertozzi Cesare Trevisani e Davide Baio Bajeta quarta parte di trasmissione dedicata al basket ospite il vice allenatore di RBR Mauro Zambelli opinionisti Maurizio Benatti Loriano Zannoni ed Alessandro Cecoli ad aiutare questa sera nella conduzione il nostro Roberto ci sarà Ilaria Giorgi quindi vi aspettiamo questa sera a partire dalle 19.35 la prima parte della trasmissione poi c'è la seconda edizione del nostro telegiornale serale poi si torna a parlare di sport per tutta la serie in uno insomma dei programmi decisamente più storici e più seguiti della nostra emittente a questo punto lasciami il nostro sito newsrimini.it andiamo a dare uno sguardo all'ansa vediamo proprio sull'ansa dell'Emilia Romagna quelli che sono i titoli principali innanzitutto lo abbiamo detto anche noi questa forte nebbia che soprattutto ha colpito l'Emilia con praticamente incapacità di visibilità di qualsiasi tipo tant'è che ieri appunto c'è stata per sei ore chiusa l'autobrennero per nebbia dalla 1 alla 4 e poi la cronaca ma mi soffermerei un po' su questo che è il dibattito diciamo più interessante per quello che riguarda la viabilità e la mobilità la famosa città 30 che ha portato a questa scelta importante Bologna con il sindaco Lepore che dice se non andassi avanti non sarei una persona seria ma intanto arriva la rottura con le categorie questo per quello che riguarda l'ansa regionale diamo uno sguardo velocissimo anche all'ansa nazionale spianata delle moschee Hamas Israele viola la libertà di culto dopo la decisione di Netanyahu di limitare l'ingresso degli arabi alla spianata delle moschee sappiamo questo luogo che ha tante religioni unite e dovrebbe anche essere un luogo di incontro di condivisione di pace che si trova appunto insomma nel cuore della cristianità Gerusalemme e poi i media palestinesi che parlano di 70 morti negli ultimi raid di Israele sulla striscia di Gaza e poi chiaramente aperto il dibattito sulla morte di Navalny in Russia queste sono le notizie che arrivano anche dal nazionale che appunto traiamo dalla pagina dell'ansa a questo punto andiamo a dare uno sguardo al traffico partiamo dalle strade del nostro territorio di provincia in particolare grazie alla cartografia di Google Maps ci soffermiamo sul territorio riminese vediamo qual è la situazione al momento grazie proprio a Google Maps vediamo una statale 16 particolarmente trafficata insomma però nei punti soliti quelli in prossimità degli incroci delle rotatorie non ci sono altre segnalazioni sono un traffico moderatamente intenso sulle vie centrali della città in particolare le direttrici che conducono al centro storico per quello che riguarda invece il traffico in tempo reale sull'autostrada in questo caso ci facciamo aiutare dal sito di Autostrade per l'Italia non ci sono segnalazioni particolari code di incidenti nel tratto riminese della 14 diciamo code decisamente traffico intenso nella zona di Bologna però vorrei sottolineare anche la presenza di nebbia anche questo sappiamo quanto possa essere pericoloso quando ci mettiamo alla guida sia andando verso ancora quindi procedendo verso sud ma anche nella direttrice della 14 che conduce a Ravenna quindi insomma il consiglio è di prestare massima attenzione sulle strade andiamo a questo punto a vedere le previsioni per la giornata di oggi attesa in settimana l'arrivo di una perturbazione prima lieve all'inizio della settimana dovrebbe essere molto più intensa nel finire della settimana insomma con questo inverno che un po' viene atteso ma che non arriva mai è un po' l'ospite che si fa desiderare la nuvolosità irregolare tra notte e primo mattino con tendenza dampie scarite a partire da ovest sul settore orientale la nuvolosità tenderà a persistere fino alle prime ore del pomeriggio e non si escludono del tutto brevi e deboli piogge per cui riguarda proprio il nostro territorio lo vediamo anche dalla cartografia del sito di Arpa il nuovo aumento della nuvolosità in tarda serata foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure sul settore costiero tra la notte e il mattino le minime che sono in aumento con valori tra 5 e 7 gradi nei centri urbani e leggermente inferiori in aperta campagna massime lieve aumento sul settore orientale comprese tra 12 e 15 gradi venti sono deboli in prevalenza dei quadranti settentrionali con lievi e temporanei rinforzi lungo i rilievi il mare da poco mosso fino a quasi calmo queste sono le previsioni per quello che riguarda l'intera regione ci diamo uno sguardo anche a quelle che sono le previsioni del tempo per il nostro territorio riminese lo facciamo sempre dal sito di Arpa è una situazione insomma che come vi abbiamo mostrato presenta un po' di nuvole ma soprattutto anche di nebbia nelle prime ore del mattino prevalentemente in costa nel pomeriggio ci potrebbe essere anche qualche pioggia ma di debole intensità vediamo anche qual è la situazione nella giornata di domani una giornata che si presenta soleggiata con temperature massime che arrivano ai 12 gradi ai 9 gradi e vediamo anche la giornata di mercoledì in realtà di perturbazioni io non ne vedo almeno al momento mi pare che continui ad esserci il sole vedremo poi se ci saranno ulteriori cambiamenti nel corso anche di queste prime giornate della settimana noi a questo punto arriviamo al termine il nostro appuntamento con il primo Tg di Icaro fra pochi minuti ci ritroveremo insieme ad Andrea Polazzi nello studio di Tempo Reale per iniziare una nuova settimana di informazione insieme quindi vi aspettiamo se riuscite a stare con noi noi saremo chiaramente sempre molto felici a tutti voi va l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana che si riuscite a stare con noi e di una buona settimana e di una buona settimana che si riuscite a stare con noi